La 40esima edizione ci porta ad allungare anche la nostra festa in due fini settimana, il 29-30-31 marzo e il 5-6-7 aprile. È il momento in cui tutto il Paese si ritrova e invita anche gli altri a stare un po' con noi, a venire a trovarci. Saranno tante le iniziative, iniziamo venerdì sera insieme a Don Luigi Verdi della Fraternità di Romena e quindi iniziamo nella maniera migliore. Poi iniziative a livello sportivo con dei tornei di calcio, attività legate anche alla presenza della scuola, dell'istituto comprensivo e poi i momenti di gioco. Abbiamo voluto coinvolgere tutte le realtà del Paese per poter davvero vivere insieme questi giorni. Ovviamente poi anche le famose ormai frittelle di Castelnuovo e tutti gli stand gastronomici per stare insieme.